Credo che il Trentino, anche negli anni scorsi, abbia sempre dimostrato una sensibilità, un'attenzione e una solidarietà. Questa noi potremmo garantirla anche quest'anno se ci saranno le quantità di acqua sufficienti, perché la priorità è anche garantirla ai nostri agricoltori, in modo particolare della provincia, che hanno già investito importanti risorse in passato. Però noi vorremmo anche che fossero garantite altre risorse del PNRR per permettere alla nostra provincia, alle altre regioni, di investire in un modo importante e soprattutto strategico. Per quanto riguarda il Trentino, ci sono già delle domande che sono state presentate in occasione di un bando del PNRR per il rifacimento delle reti acquedottistiche da parte di una ventina di comuni, per un importo complessivo di 140 milioni, domande ammesse ma non finanziate. Per poterle finanziare tutte, il Governo dovrebbe impegnare ancora circa un miliardo e mezzo di risorse. Oggi, in questo momento, in questa occasione, alla vigilia della giornata mondiale dell'acqua, abbiamo voluto presentare una campagna informativa, dove attraverso dei comportamenti che ognuno di noi può garantire quotidianamente, è il primo risultato, è il primo obiettivo che vogliamo raggiungere. Con uno slogan, io ho un futuro da difendere. Credo che questo interessi a tutti noi, interessi ai cittadini, ma soprattutto interessi molto ai giovani, alle nuove generazioni. Noi dobbiamo lavorare con questo spirito, con questa strategia, per garantire loro un futuro migliore. Oggi a Roma il Presidente Fugatti cercherà di portare le istanze che anche al Trentino interessano, in modo particolare risorse aggiuntive per finanziare quelle domande che noi abbiamo già avuto modo di presentare, che sono state dichiarate ammesse ma mancavano delle risorse. Per completare il finanziamento ai vari comuni, per rifacimento delle reti acquedottistiche, per garantire risorse ai consorzi di miglioramento fondiario idrico, oggi servirebbero ancora complessivamente circa 300 milioni di euro. Questo per guardare al futuro con maggior ottimismo, ma soprattutto per continuare a lavorare nella prospettiva di permettere ad un Trentino, che ha dimostrato attenzione in passato, di poter sempre di più essere attento nella giusta direzione della sostenibilità e del risparmio anche dell'acqua stessa.